Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata delle Weekly News di Marketing Espresso, il podcast che ogni settimana in 15-20 minuti vi racconta le ultime dal mondo digitale e marketing sulle note violinate di sbranding. Vi diamo il benvenuto in questa nuova puntata. Ciao Sbre. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Tra l'altro per chi sta vedendo su YouTube, raga, mandate un cuore a sbranding, si è fatta malissimo. Un mignolino, per favore. Mandate un cuore e un mignolino a sbranding perché si è fatta male, però sta bene, recupererà insomma nei prossimi giorni. L'importante del cervello funziona, quello c'è, quello c'è ancora. Quello c'è, quello c'è, l'importante è quello. Quali notizie andremo a vedere questa settimana? Parleremo di Heineken, di una campagna geniale, parleremo di un nuovo social che se siete su Instagram, per cui tendenzialmente 100% dovreste averlo visto e sentito parlare. Ci sono stati nuovi aggiornamenti, nuovi numeri, super interessante in realtà perché si è portato a casa diversi primati e andremo a vedere quali. Terza notizia della settimana, si parla di nuovo di Fiat. Interessante perché è un periodo in cui Fiat sta sganciando diverse bombe e vale la pena parlarne, ma insomma sta generando un po' di hype a livello globale. Quarta notizia della settimana parleremo di un passo importante di TikTok, tra virgolette. Quinta notizia della settimana parleremo di matrimoni e McDonald's. E voi direte, ma che ci entrano? Lo scoprirete a fine. Puntata! Prima notizia della settimana. Per i suoi 150 anni, quindi in occasione dell'anniversario dei suoi 150 anni, Heineken ha sfruttato, secondo me ha fatto quello che andrebbe fatto sempre, mettere al centro la community e le persone. E lo ha fatto con una nuova campagna geniale. Cosa ha fatto? Praticamente ha creato tutte, ha creato delle bottiglie in edizione limitata, sul cui fianco c'era scritto chiaramente il nome del brand, ma come lo dicono e come lo pronunciano le persone. Praticamente che cosa è successo? È partita da un insight. Spesso le persone in giro per il mondo sbagliano la pronuncia di Heineken. Esatto. Heikenen. Sì, esatto. Heikonen. Cinesi, giapponesi, italianizzato. Esatto, cioè nel senso qualsiasi cultura in giro per il mondo sbaglia la pronuncia. E quindi che cosa ha fatto? Partendo da questi errori, piuttosto che cercare di combatterli, li ha accolti e quindi ha messo tutti i nomi del suo brand, con tutti i refusi che le persone usano per chiamare il brand, sulle bottiglie. E quindi ha creato le bottiglie con tutti i nomi sbagliati. Geniale. L'obiettivo di questa campagna era, allora, il claim è tendenzialmente 150 anni di bei momenti, in un modo o nell'altro, che anche a livello di tone of voice è super interessante perché trasmette proprio quel, in un modo, frizzi un po', no? Frizzi, ma anche molto eloquente, no? Perché in un modo o nell'altro bei momenti, cioè è come se fosse tipo rassegnato al fatto che le persone non sappiano pronunciare il suo nome, in un modo o nell'altro però comunque non è quello l'importante. E infatti l'obiettivo era quello di dimostrare che i bei momenti e la creazione dei legami che arrivano da quei momenti è ciò che conta di più. E quei momenti si creano grazie alla birra, quella birra è Heineken o pronunciatela come volete voi, basta che utilizziate la birra per generare quel valore e per passare i bei momenti. Posizionamento e community totale. Esatto, esatto. Tra l'altro vi consigliamo di guardarlo il... Sì, chi ci sta seguendo su YouTube lo starà guardando in questo momento. Perfetto, perché è super, super carino, proprio perché ti permette di medesimarti, no? Perché ci sta appunto il cinese e o... cioè vengono più o meno prese tutte le nazionalità e le culture e quindi anche Nord Europa, Oriente. Esatto. Sì, sì. Fighissimo e perché crea un botto di medesimazione, no? Perché se è una campagna global comunque le persone poi la vedono e quindi dicono a cavolo anch'io pronuncio la parola così, a cavolo anch'io l'ho detta da sempre sbagliata, no? Quindi super carino e super iniziativa anche perché di solito quando uno fa l'anniversario tende a celebrare sempre quelli che sono i traguardi raggiunti, in questo caso invece si fa un passo indietro, ci si diverte ironizzando su quello che sono appunto gli errori che la persona ti fa e si porta avanti una campagna appunto di buon anniversario del genere. Super carina e provata. Super, infatti super interessante. Fateci sapere se vi è piaciuta. Noi arriviamo alla seconda notizia della settimana. Allora, cosa è successo? La scorsa stasettimana è noto a tutti. Instagram ha lanciato un nuovo social. Come? Una bombetta ha lanciato. Una bombetta proprio esplosa perché è letteralmente esplosa. Ha lanciato un nuovo social, competitor di Twitter, si chiama Threads e appunto, come abbiamo anche spiegato all'interno di un post su Instagram, è proprio un competitor di Twitter. Cioè nel senso che è un social testuale, su cui però si potranno caricare anche immagini e video, ma che ha il feed organizzato in ottica testuale. Quindi hai proprio un feed dove puoi scrivere post di 500 caratteri massimo se non erro, puoi ripostare. Insomma, le dinamiche sono molto simili al social dell'uccellino. in questo caso però si è portata a casa. Allora, sicuramente super interessante perché è andata a presidiare un buco di mercato che probabilmente c'era e che Twitter stava generando con tutti un po' i suoi malcontenti che ha generato nell'ultimo periodo perché allora, in queste ore che stiamo registrando, quindi può essere che nei prossimi giorni in realtà raggiungerà altri traguardi, ha appena raggiunto 100 milioni di utenti iscritti, ci ha messo meno di una settimana perché se non erro è uscito giovedì. Esatto, più di Gpt, che Gpt è stata già una delle piattaforme che è cresciuta più rapidamente. Aspetta, ha preso 100 milioni di utenti e un altro, e il primato che poi ha avuto è stato quello di essere l'applicazione più veloce della storia a raggiungere un milione di iscritti. In sostanza classifica alla mano che stiamo recuperando in questo momento e allora vediamo se la recuperiamo, insomma è stata l'applicazione più rapida, con più rapida crescita della storia. Cioè Gpt ci ha messo 5 giorni per raggiungere un milione di utenti. Instagram ci ha messo 2 mesi e mezzo, Spotify 5 mesi, Trez ci ha messo poche ore. Poche ore. Cioè non ha superato neanche la giornata. Assurdo. Però ti dico, allora, dal lato mio questa cosa è... non è che lascia un po' il tempo che trova, però il fatto che sia collegata direttamente a Instagram, che quindi l'iscrizione è direttamente con l'account Instagram, è molto più semplice andarsi a riscrivere. Quello è vero, però c'è anche da considerare la frizione dell'app, no? Perché tu comunque stai occupando spazio sul telefono, quindi un'app diciamo ogni volta una è un po' arrestivo, però secondo me dopo il lancio di TikTok, di tutte queste nuove app, un po' ci siamo tipo sensibilizzati alla novità, no? E quindi appena esce una cosa nuova subito vogliamo essere gli early adopter che la provano, che vedono com'è, se gli piace oppure no. È come se stanno uscendo tantissime applicazioni nuove, tantissime cose, novità nuove, novità nuove e quindi vogliamo essere sempre primi, essere sempre avanti agli altri nel provarle, nel condividerle, nel far vedere se effettivamente possono essere un qualcosa di utile oppure no. Tra l'altro sul nostro canale Telegram avevamo fatto un sondaggio in cui avevamo chiesto se secondo voi era un'app che avrebbe funzionato o che magari tra due mesi in realtà non utilizzava più nessuno. Abbiamo avuto 200 voti e secondo la community di Telegram il 31% dice che ha un'idea che funziona e il 69% dice che tra due mesi non lo sarà più nessuno. Vediamo, tra due mesi ci rivedremo. Tra due mesi ci rivedremo. Interessante però perché in realtà i numeri che parlano stanno dicendo proprio informazioni opposte. Fateci sapere magari nel box, se ci stanno ascoltando su Spotify, se l'avete provata e se vi piace l'idea, se la provereste, se la utilizzereste perché potrebbe essere interessante insomma capire anche la vostra. Noi arriviamo in questo modo alla terza notizia della settimana. Cosa è successo? Si parla di nuovo di Fiat. Fiat ha lanciato Topolino. Che bella, ragazzi è bellissima. E non è una collaborazione tra Walt Disney e Fiat ma è una nuova auto elettrica pensata per famiglie ma anche per giovani. Questa cosa mi ha colpito tantissimo perché in realtà si vede che ha delle caratteristiche tali per cui sarà guidabile anche dai 14 anni, quindi da persone che hanno 14 anni. È una nuova auto che sarete vedendo in questo momento disponibile sia in decapottabile che con insomma il tettino intero e l'obiettivo è quello di puntare appunto alle famiglie e ai giovani ma in chiave dolce vita. E infatti lo spot super interessante è tutto di mood che richiama la dolce vita italiana. Esatto. Se guardate, immagino il sovraimpressione ci sarà. Per creare proprio in millesimazione e creare anche uno spot un po' più emozionale, viene fatta vedere questa donna e quest'uomo, questa coppia su uno yacht e poi la donna prende, parte e va in giro, scende dallo yacht con la macchina e si fa i suoi viaggi. Crea proprio un mood in cui le persone magari si rispecchiano e dico cavolo voglio fare la loro stessa vita. Magari mancano yacht. Magari mancano yacht per tutti però va bene, uno sogna, no? È quello un po' l'obiettivo di questa macchinina. Tra l'altro ragazza è stupenda, cioè è meravigliosa perché già la Fiat comunque ogni volta che fa uscire macchine nuove sono sempre super carine e sempre super studiate. Super cute. Esatto e questa qui è davvero tanto tanto carina. Tra l'altro vedendola su TikTok in realtà si vede proprio che è molto piccola. È minuscola. Se cercare su TikTok proprio nella search bar Topolino Fiat ci sono tantissimi video dove mostrano tutte le caratteristiche e le funzionalità della nuova macchina e anche quanto è grande. C'è un uomo che entra dentro la macchina ed è rispetto a lui minuscola, no? Però poi dentro si sta... Sembra quasi una macchinetta però ovviamente è più fighetta, ecco. Esatto. Noi arriviamo alla quarta notizia della settimana perché ByteDance, l'azienda proprietaria di TikTok è stata scoperta a lanciare, tra virgolette scoperta a lanciare, un'azienda di editoria. Che cosa è successo? Il New York Times qualche giorno fa ha sganciato questa bomba in cui ha riportato una serie di attività che erano state registrate da alcuni autori che si autopubblicavano, autori di libri che si autopubblicavano. Venivano contattati da questa azienda che offriva chiaramente soldi per ottenere il copyright e quindi i diritti del loro libro e poi pubblicarlo. Che cosa è successo però? Qualcuno è andato a ricercare quale fosse questa azienda e in realtà l'azienda si chiama Eight Note Press ed è figlia, per cui la proprietaria di questa azienda è ByteDance, per cui l'azienda proprietaria di TikTok. Si vedono spesso in giro delle headline in questi giorni, TikTok ha lanciato, TikTok inizierà a pubblicare libri, è un'inferenza sicuramente in qualche modo fondata, il fatto non è propriamente quello, però è interessante perché ByteDance che ha TikTok in mano, all'interno del quale il fenomeno del BookTok è impressionante, proprio ieri mi capitava di guardarlo, a livello globale ci sono 15,5 miliardi di visualizzazioni sull'hashtag BookTok, che è una community che ha un impatto offline enorme. E anche perché comunque sono stati remunerati, tutti i BookTokers hanno un sistema di reward di remunerazione assurdo. Esatto, poi sì su TikTok c'è tutto il sistema di reward che è clamoroso, però mi ricordo proprio tempo fa, non ricordo se era la Feltrinelli in Italia, che aveva creato una sezione all'interno del suo negozio dove vendeva i libri in trend sul BookTok, per cui è stata proprio un'iniziativa chiaramente target giovani, però ci sta dimostrando che TikTok sta avendo un potere a livello anche editoriale, non solo, ma sta avendo un potere anche a livello di editoria e quindi di libri enorme. E quindi tutta questa, insomma, questa mossa di ByteDance ci fa riflettere sul fatto che comunque potrebbe esserci sinergie su TikTok, con TikTok e non farebbero un soldo di danno. No, ma assolutamente, a parte la strutturazione che sta creando, il fatto che comunque uno pensa a business che non sono magari connessi tra di loro, che però potenzialmente se gestiti in maniera strategica uno porta traffico all'altro, si trovano creator e quindi c'è un ciclo continuo che si autogenera da solo. Secondo punto è proprio il fatto che, non so se è un premonitore tutto questo investimento nei confronti di BookTok perché già sapevano che avrebbero investito su questo progetto, però è interessante capire come, non so se c'era già strutturato oppure hanno visto che è talmente tanto influenza, ok, investiamoci e creiamo un progetto proprio ad hoc, questo non sappiamo, però è molto interessante. Tra l'altro competitor poi sarà diretto di Amazon perché tutta la parte di editoria che Amazon gestisce per chi vuole autopubblicarsi può essere un competitor su cui far attenzione. Il problema o il vantaggio, secondo dal punto di vista, è che chiaramente TikTok ha il potere di andarsi a scegliere magari quei libri che sono in trending su TikTok e comunque va proprio, cioè TikTok con questo approccio sta cambiando tanto in diversi contesti. Assolutamente, assolutamente. Anche a livello musicale ha un impatto clamoroso. Capire pure con il mondo dell'editoria se può portare vantaggi o magari rischi perché comunque il mondo dell'editoria è in crisi, magari un supporto da parte di TikTok che in questo momento ha tanta tanta influenza può portare magari dei benefici al mondo dell'editoria da analizzare. Sbre, dammi una mano, l'altra. Mi vuoi sposare? Quando vuoi. Al matrimonio ti porto il menù del McDonald's. Sì, madonna, bellissimo. Noi ci stiamo per sposare per quanto sbranding sia una cucciola, ma il menù del McDonald's per i matrimoni è realtà, ragazzi, perché che cosa è successo, nello specifico in Indonesia, ma è interessantissimo proprio come test, come iniziativa. McDonald's ha lanciato il menù per matrimoni, cioè ha lanciato un'offerta di catering che darà la possibilità alle persone di ordinare McDonald's per un matrimonio. Si chiama Wedding Package e all'interno, al modico prezzo di 200 dollari, prevede 100 panini, 100 porzioni di McNuggets e ha un prezzo appunto di 200 euro. C'è un cavolo, niente. Non costa niente, dai da mangiare a praticamente 100 persone perché un panino che magari può essere anche un cheeseburger e una porzione di McNuggets, comunque come entré, come aperitivo può funzionare. Assolutamente, ma anche in ottica super estetica instagrammabile vuoi mettere? Cioè, fatto del matrimonio con McDonald's, assurdo. Sì, ma poi c'è anche l'iniziativa di posizionamento, cioè nel senso, che cosa ci vedi tu qui? Allora, sicuramente analisi di microdati. Perché? Perché su Instagram, su Tumblr, ai tempi, era pieno di foto con tutti questi vassoi pieni di panini, ma anche foto di matrimoni dove gli invitati compravano i panini a prescindere da questa iniziativa e facevano le foto. Quindi, molto probabilmente, McDonald's ha analizzato questo insight e ha provato a strutturare una strategia di conseguenza. È attiva solamente in Indonesia, quindi sicuramente è in test, magari perché hanno analizzato che quel tipo di mercato è più propenso per un qualcosa del genere, però secondo me ci sta assolutamente. Proprio perché, me lo ricordo, su Tumblr giravano tantissimo le foto di tutti questi panini di McDonald's durante proprio il matrimonio oppure le feste di fidanzamento. Quindi, analisi, creiamo un output che sia affine a quello di cui ricerca la nostra audienza o cliente. Sbrae, notizia prefe? Eh, allora... Nanananana tra Heineken, tanto sicuro, Heineken o Topolino. Heineken, vabbè, Topolino perché già l'avevo vista, quindi no. ByteDance è figa. ByteDance secondo me è super figa proprio per tutto il discorso che abbiamo fatto prima e Heineken. Mi è piaciuta l'idea super creativa di... parleva sui... vabbè, aiuto. Su chi fa l'errore di nominare Heineken. Ah, ok, ok, ottimo. La tua? Per me ti direi quella di McDonald's. Mac, eh beh, vuoi mettere... Geniale, geniale. Immagina se arriva in Italia altro che cento panini, mille panini. Ma già è bello partecipare da invitato ai matrimoni se fanno il menù nel McDonald's proprio a Dio. Totale, totale, proprio. Fateci sapere in voi, cioè voi, la vostra notizia preferita. Se siete su Spotify votando sotto al player, se invece ci state ascoltando su YouTube fatecelo sapere sotto i commenti, nella sezione commenti. E noi, come al solito, grazie Sbre. Grazie a voi. Grazie a te, Adar. Grazie a voi per averci ascoltato e noi ci sentiamo settimana prossima. Buon martedì. Ciao. Ciao.